Scatta l'allarme per circa un'ora e mezza nell'ex caserma Cesare Battisti dove sono collocati i MUSP per l'Istituto Masciangeli. È stato un inizio di mattinata tutt'altro che tranquillo per famiglie, studenti e personale ATA che hanno richiesto un immediato intervento negli organi preposti prima di far entrare gli alunni in classe. Dalle prime informazioni sono ripetuto dell'allarme sarebbe dovuto a uno sbalzo di corrente. Questa è almeno la versione ufficiale che è stata rilasciata dai tecnici dopo il sopralluogo di questa mattina. La prima verifica ha quindi escluso qualsiasi altra irregolarità e ha dato il via libera all'inizio delle elezioni che è slittato di qualche minuto. I geritori chiedono però un sopralluogo più approfondito alle forze dell'ordine, a scanso di equivoci anche alla luce delle criticità già segnalate riguardanti il cancello d'ingresso che di notte resta socchiuso. Ad accertarlo sono stati residenti della zona secondo i quali quella porta non è mai del tutto chiusa, ma anche una foto scattata da un datigì all'una di questa notte che ritrae il portone principale dell'ex caserma semiaperto, forse per un problema difettoso a sistema automatico. Per chiunque è comunque impossibile entrare, come ricorda il vice sindaco Nicola Angelucci, perché all'interno del cortile c'è un altro cancello che è sempre chiuso. Ma la situazione non fa stare tranquilli i genitori che sollecitano un immediato intervento, anche alla luce di quanto avvenuto in passato all'altro ingresso dell'ex caserma, quella piccola porticina che un tempo era aperta e poi è stata chiusa definitivamente dopo un esposto presentato ai carabinieri. Lo scorso anno il ritrovamento di alcune seringhe nei pressi dei muspe fece scattare l'allarme, ragion per cui, seppure alcune delle criticità sono state risolte, le famiglie non abbassano la guardia.